Se cammini nella nebbia senza vedere la strada, se davanti a te nessuna luce, solo buio, se niente e nessuno riesce a farti sorridere, se vedi solo il cielo coperto di nuvole, se seguire la ragione annulla la tua vita, se i sogni sono scomparsi dalla tua vita, se malinconia, tristezza, dolore spadroneggiano dentro di te, tanti, tantissimi sé. Ma è bello sapere che qualcuno ti pensa, ma è fantastico poter pensare a qualcuno, ma è gioia sentire che una persona ti ama, ma è straordinario amare quella persona, ma è meraviglioso sapere che tu ci sei, ma è sublime e capire che non siamo soli. Allora, perché rinunciare a tutto questo? Perché seguire la ragione e non il cuore? Perché condurre una vita vuota, abulica? Viviamo questo amore senza sì, ma perché? Claudia Romano